Un corso tra Volta Brusegana e Brusegana per la nuova passerella, tanta richiesta dai residenti, infatti rivediamo come c'è tantissime persone che abitano in zona. Sì, è una gioia, davvero una soddisfazione poter proseguire con le opere pubbliche accompagnate da così tanta gente, tanta gente che in questo quartiere, sia a Volta Brusegana che a Brusegana, ha richiesto la realizzazione di questa passerella che unisce due quartieri. Ora siamo in un momento saliente, siamo in un momento saliente del cantiere, stanno per svolgersi le operazioni di varo, alle mie spalle già un elemento è stato posato e nei prossimi minuti verrà posizionato il secondo e nelle prossime ore il terzo. Ed è un momento spettacolare di un cantiere che rappresenta l'ennesimo passo di concreto verso una città che collega i propri quartieri con opere infrastrutturali che servono anche i percorsi ciclabili. Ecco le cose online. 5 euro, 6,5 euro, 5,4 euro, 5,5 euro. Se ritiene là. Grazie a tutti. Grazie a tutti.